Quando il Giappone invase la Cina, lo spirito di battersi per amore del Kung Fu svanì. Ma solo un uomo aveva il segreto. La leggenda di un guerriero conquistato e oppresso che non ha mai perso il suo onore. Donnie Yen è il maestro del più grande movimento d'arte marziali della storia. Questo è il mio stile, il Winshaw. Sono Ipman. Ispirato da una storia vera. Una stirpe di oltre due milioni di discepoli. La fantastica storia di un uomo che è diventato il mentore del leggendario Bruce Lee. Ipman Ipman